Amici del bello del calcio, siamo usciti oggi in esterna con Francesco Mastandrea e siamo su un campo di gioco vero per un esperimento scientifico a dir poco sensazionale. Sì, cercheremo di ascoltare la vera voce dei tifosi e faremo loro questa domanda. Cosa manca al Napoli per essere una squadra veramente da scudetto? Sicuramente un nuovo pallone! Qualcosa sto a dire Napoli con il pego da nero. Perciò che... Questo è... Il signor Russo Mario Antonio Occhiobuono, noto ultra Il signor Gennaro Michele Il signor Francesco Cimarrazzo Francesca Francesca Daniello De Rosa, già insomma negli anni diffidato in parecchi stati italiani. Ecco, cosa manca a questa squadra per essere un team di primo livello? Come il Barcellona, come il Real Madrid. Il Napoli ci manca qualcosa della squadra che non va. Perciò che contro la Juve non ha vinto. Il nostro Presidente dovrebbe prendere esempio da il Presidente Real Madrid e Barcellona e Mancester Città. Quindi Real Madrid, Barcellona e Mancester Città. C'è qualcosa che è più... Sì, non è competente, però come riserva, diciamo che è scarsa il Napoli. È più perfetto del Napoli, è più attaccato, non c'è, non c'è stato quello là che il pallone deve andare alla volta. Ci sono i giocatori di classe e noi i murti che arrivano ogni tanto. Che si levano, si levano i giocatori buoni e poi mandano i giocatori murti. Vuoi fare un saluto ad Armero? Sì, io ringrazio tutti. La domanda di tattica, lei è favorevole ad un modulo 4-5-1 un po' più specolare, magari con doppio scambio a catena delle fasce, oppure lei è più spudorato, insomma preferisce un 4-3-3 stellato ad Armero di Natale, magari un modello diamante o Armero di Natale con Rumbo a centrocampo. Ecco, lei si trova bene con Rumbo? No, non mi piace. A me quello che mi piace di molto, per esempio, è quando fai il cambio tra Insigno e Pander. Insigno e Pander. E non per i soldi a Fuglia che gioco uno, oggi e domani quello non gioca, sono sempre i soldi che... Lei ha mai usato il turnover? No, non ho mai usato, dico la verità. Signor Aniello, si trova bene col turnover? Così e così. Non si trova bene con il turnover, insomma. No, non mi trova bene, dico la verità. Lei è favorevole al turnover? Turnover? Non lo so. Salute a Divanza Zazzarone. E Claudia Mercurio. E Claudia Mercurio.